Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Freepixel mc.freepixel.eu per la... per... intanto devo parlarvi ai giornamenti iniziamo di nuovo, reiniziamo la serie perché... perché effettivamente dato che abbiamo... siamo passati dalla parte beta alla parte effettivamente ufficiale il nostro... la shitprison è pronto, ci saranno comunque aggiornamenti frequenti ma in tutti i casi ragazzuoli, a parte oggi vi aspetto 18 sul server non mancate perché facciamo altri mega give del tipo ieri assistiamo... 15 milioni ieri, oggi magari riduciamo però ci saranno sicuramente delle key dei... dei kit, insomma se venite sul server potete davvero ottenere parecchi parecchi vantaggi detto questo ragazzuoli direi di fare un salto alla nostra isola vai all'isola per farvi vedere alcune cose slash c... ci sono le quest, esatto, distruggi 16 blocchi di legna, distru poi andiamo avanti insomma vabbè ci sono varie richieste 25... 20 per utilizzante, 3 sapling, 5 blocchi d'oro 64 pezzi di legna, 10 pezzi... insomma ne possiamo fare diverse di cose e qui c'è uno scheletrozzo ma gli scheletri non fanno male bellissimo il nome della pecora si esatto gli scheletri... cioè i mob non fanno... non prendete danno dai mob e questo è fantastico mi è venuta un'idea di farm estrema, dovrò effettivamente verificare se funziona ma se funziona è una figata allora siamo già in game mode 0 direi di iniziare a rompere alcune cose allora ragazzuoli una cosa importante che vi devo dire probabilmente dato che effettivamente più di 150 slot abbiamo visto oggi si è un po'... cioè sto registrando di mattina ovviamente la gente sta a casa c'è un orario, non possiamo vedere, non si può vedere l'orario no la voglio aggiungere questa cosa l'orario perché di solito, cioè magari se ci sono raduni, live o tutto il resto raggiungiamo se andiamo sopra i 150 purtroppo più di 150 player qua non possiamo tenerli per il semplice fatto che diventa veramente problematico 16... prego per questa volta che no che cosa mi da? allora distruggi 16 blocchi di legna ok l'ho distrutto 8 e basta va bene allora quello che volevo dirvi è che davvero diventa se no è impossibile quindi pensavamo di aprire un prison B addirittura collegato ovviamente all'A assolutamente sì quindi l'idea sarebbe che voi potete giocare indistintamente A e B farmerete lo stesso cache e i cache li ritrovate sia sulla A che sulla B i rank sarebbero gli stessi sia sulla A, sul prison A che sulla B quindi voi andate nel prison A, arrancate fino a la lettera D andate sul prison B e siete sempre il rank D non ve lo toglie nessuno l'unica cosa che sarebbe differente purtroppo sono i... mi manca uno che è buono sarebbero le isole non possiamo tenere il mondo in comune purtroppo eh non è fattibile questa cosa ok distruggi 16 blocchi di legna non è ancora distrutto? come no? figo ce li ho 16 comunque sorvoliamo sorvoliamo su questa cosa qua war crafting table ci serve ok crafting table ci serve slash shop ovviamente non so cosa vi abbia scritto just shop slash shop ok right fantastico cibo e coloranti per quanto riguarda la parte dei blocchi la stiamo leggermente sì c'è un piccolo baghino dobbiamo risolverlo a questo punto potrei ovviamente potrei prendere già diverse cose ma quello che voglio fare io è una cosa un po' diversa un po' differente mi servirà sicuramente del legno parecchio direi prendere un botto di legno tanto effettivamente posso comprare quanto mi pare ho una quantità di cash infinita ma questi io non ho farmato niente assolutamente queste sono tutti give che poi quando sono sale all'interno del server parecchio quindi ho preso pressoché tutti i give però comunque se state qua 11 milioni sono tranquilli assicurati ok mi sono momentaneamente preso un overlord per il semplice fatto che mi serve un po' di ferro e devo necessariamente toglierlo carbone ovviamente anche perché sono al warp 5 in questo momento allora ragazzoli che cosa dobbiamo fare a questo punto ho preso tutto andiamo isla she's andiamo di qua nella mia isolotta e possiamo a questo punto craftarci della cobblestone errata corrige perché mi è venuta un'idea parlando con bis per quanto riguarda il il nostro il prison in verità potremmo farne una cosa figa quindi a b senza distinzione noi non avrete problemi o entrate nel bio entrate nella tutto uguale però comunque c'è la divisione dei player evitiamo tutto il lag che ci potrebbe essere quanti siamo vabbè sempre 8 e quindi evitiamo effettivamente la quantità di gente che potrebbe esserci secondo me è fighissimo cioè dovrebbe essere davvero una figata da provarla assolutamente si allora ragazzoli l'idea è questa qua probabilmente metteremo a questa linea qui posso volare si esatto a questa linea qua o magari anche un po' più sotto dei degli hopper a questo punto i mob spawner saranno tutti qua sopra chiusi sopra come funziona loro cioè loro spawnano vengono nell'acqua muoiono droppano e io prendo tutto easy no non è difficile right molto molto facile direi perché me li me li vende giusto devo stare attento a non farmi li vendere perché se no è problemati se io li prendo così tipo e li metto qua dentro ok right dopo un po' di tempo lui te li vende in automatico quindi dobbiamo stare attenti allora ragazzuoli pertanto spawner 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 abbiamo skeleton zombie pig che cosa gli serve skeleton è ovviamente il più importante io ne prenderei già un paio conferma dai ok perfect ancora che cos'altro mi serve un creeper o uno zombie io uno zombie un paio di zombie li prenderei comunque stessa cosa e potremmo prenderne magari ok questi devo prenderli tutti perché è fondamentale che io abbia tanti hopper spawner shop poi magari non ce li fanno fare sono un cazzo cioè ti rendi conto che cosa terribile sarebbe vabbè non riesco lo stesso a creare questa cosa però è un po' più problematico aia ovviamente anche due di creeper li dovevo prendere e li mettiamo tutti qua skeleton spawn zombie spawner creeper spawner perfect tac tac e allora ce ne ho 7 vediamo un po' se riesco a fare l'hopper tac 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 right perfetto hopper funziona molto bene ok abbiamo tutti i problemi nessun problema a questo punto attento perfetto allora mi serve slash shop perché non so scrivere porca miseria slash shop blocchi che cosa prendiamo ci servono blocchi da costruzione right che blocchi vogliamo utilizzare per questo prize bricks non mi piacciono non mi piacciono i bricks pack dice sarà tutto pack dice dai forse un po' più lentamente lo prendi vai è fighissimo il pack dice non si scioglie puoi fare tutto di pack dice è bellissima sta cosa probabilmente facciamo tutti nevato che non ho neve ma va bene lo stesso ok va bene abbiamo un botto di blocchi a questo punto l'idea sarà proprio quella di andare a creare intanto magari una piccola parte qua in d'espansione che si espande tutto freeze deve essere freeze proprio freddo gelido no l'ho rotto uno ok si romperanno alcuni però fotte sega a questo punto possiamo sempre allargare fare una roba del genere tac ok deve essere largo 9 insomma non ricordo quanto è largo questo ma sicuramente più di 9 a questo punto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok perfetto va più che bene perché l'area di spawn 1 e 9 per 9 però lo dovrei fare leggermente un po' più grande 11 e io l'allargherei effettivamente anche in altro blocco facciamo una roba del genere tac così e siamo tutti felici e contenti ma mica per niente perché sono 11-13 dato che dobbiamo mettere parecchi spawner probabilmente poi ci si sfasa e quindi mi piacerebbe avere e dai allora mi piacerebbe avere una roba più figa 13 per 13 fatto tenta pecore che tu mi adi se tu mi adi mi adi sono azzi io vorrei evitare tu morissi in verità devo essere sincero mi stai anche abbastanza simpatica quindi tenterò di fare un sistema per cui tu non possa cadere e morire male giusto perfect brava pecora brava beh questo lo togli togli anche questo così la bea rimane tranquilla e sepolta qua sotto non abbiamo ok dovrei non cadere se possibile mettiamo tutta sta parte qua la ricicondiamo dal ghiaccio perché il ghiaccio e la sabbia stanno malissimo insieme raga con 15 hopper io ci faccio una fila il che è problematico neanche ne devo fare altre 12 poi di file serviranno diversi stack di hopper però che dobbiamo fare poi dobbiamo capire effettivamente quanto farlo alto sto coso perché più è alto più è figo e poi gli spawnerà c'è trova dovrebbe essere una sottospecie di glu se noi non lo facciamo ai glu però deve essere un po' tutto che mi va su tutto unito tutto bello tutto figo beh proviamo a farlo sto chiesti glu io non so come verrà e ci incrociamo le dia speriamo venga bene sarà una farm fighissima questa già ve lo dico se viene come penso io viene figa allora raga sta venendo un po' a forma di glu però certo io lo farei l'avrei fatto in maniera diversa fossi stato cioè fosse stata cazzo non so parlare non lo so una serie in cui dovevamo puntare all'efficienza si vabbè a fotte sega se c'era uno spawner solo mi regolavo meglio però dato che non ci sono più spawner io non so come cazzo regolarmi perché effettivamente è una cosa che in vanilla non mi è mai capitata e quindi dobbiamo adattarci un po' certo il rate spawn anche se cambia di poco basta vabbè è figo ci lasciam stasciam correre però comunque volevo che sia abbastanza no è alto per carità è altino alt'alto alto alto stiamo già cambiando a questo punto direi di fare questo va bene qui e va bene questo lo mettiamo qui e va bene poi a questo punto questo lo dobbiamo mettere di qua ma potremmo già cambiare il tipo di costruzione e verso che diamo all'igloo facendo semplicemente una roba del genere guardate attack questo lo facciamo lo facciamo a rientrare questo lo possiamo togliere madonna quanti blocchi ho dovuto comprare per sta roba però in questi casi milioni e milioni non è un problema che poi potrete tranquillamente averli anche voi milioni e milioni se decidete cioè se state sul server potete tranquillamente ottenerli dato che facciamo give in continuazione questo lo facciamo così stessa cosa questo va fatto di qua poi questo magari lo butti su così tac e tac per esempio eh 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 una cosa carina secondo me questo non va bene questo lo metti su così fucking crazy shashup questo lo mettiamo così eh eh secondo me come spawner ci sta ma oddio non è proprio proprio un igloo è il fatto che spawnano qua i mob non devono spawn oh oh zio ah vabbè anche se esplositi non è un problema ok right a questo punto che cosa dobbiamo fare eh qui l'entrata forse è un po' troppo larga secondo me infatti potrei ancora decidere di raffinarla leggermente fare magari una cosina del genere questo toglierlo però prima mettere questo togliere questa roba qui fare una cosina un po' più per favore ti prego ok una cosina un po' più carina tac eh 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 non proprio questo infatti sta così questi lì aumentiamo dietro eh 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 una cosetta del genere perché no ci va troppa luce poi dentro cioè bisogna che noi limitiamo il più possibile la luce se facessi una cosa del genere cioè più tolgo meglio è partiamo da sto presupposto perché effettivamente se c'è luce che entra i mob spawnano di meno e questo non va assolutamente bene tac 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 ok e poi l'ultima parte che sarà proprio proprio risicata a un blocco ok perfetto sì direi che così può andare molto bene può andare veramente molto bene ok abbiamo un igloo abbiamo una sorta di igloo che è diviso è carino secondo me e abbiamo soprattutto vabbè che spawn animob poi metteremo la luce è un altro conto che comunque questa cosa è figa ok ragazzuoli a questo punto direi di iniziare a mettere gli spawner li voglio mettere però a una certa altezza quindi inizieremo a fare una cosa del genere e da qui poi semplicemente mettere gli spawner zombie spawner facciamo una roba del genere questo è il 100 preciso questo lo possiamo togliere allora zombie zombie questi sono zombie creeper scheletri scheletro creeper zombie right ok appena spawnano noi cioè effettivamente avremo i drop tutti per noi appena spawnerà un mob qua sovra intanto spawnano tranquillamente verrà cadrà ho messo questi hopper di più non ce l'ho fatta raga è troppo grosso sto posto quindi anche va bene niente aspettiamo e questo è quanto ragazzoni non avremo nessun tipo di problema in merito a questa roba qua ci sono tutti gli spawner io ho il mio tranquillissimo bellissimo posto posso tranquillamente fare quello che voglio la pecora non è centrata il che non mi piace mi distruva il conto sta cosa della pecora quindi voglio assolutamente rimediare ok adesso la pecora è centrata sistemare il tutto ma comunque penso che per questo video possa tranquillamente essere tutto ragazzoli vi ringrazio tantissimo per la visione vi lasciare mi piace se il video è piaciuto iscrivervi al canale se avete fatto di condividere il video su facebook e poi mi lasciare le persone mi raccomando mi raccomando ragazzuoli vi aspetto sul server oggi dalle 17 in poi perché ci saranno veramente tanti give noi ci vediamo come al solito al prossimo video ciao a tutti ragazzi